Il comune di Pordenone prosegue nel percorso di trasformazione digitale dei servizi. Cambiano ora le modalità di pagamento delle sanzioni per la violazione del codice della strada, i cui preavvisi saranno digitalizzati in modo da integrarsi con Pago.pa, il servizio di pagamento verso la pubblica amministrazione. Il nuovo avviso di pagamento riporterà un QR code, che consentirà al sanzionato di pagare immediatamente utilizzando I.O., la app dei servizi pubblici. Il sanzionato potrà così risparmiare tempo per le operazioni e danaro, in quanto pagando entro cinque giorni si ottiene una riduzione del 30%. Oggi come amministrazione comunale compiamo un passo in avanti, veniamo incontro alle esigenze dei cittadini utilizzando la tecnologia a disposizione. Quindi da oggi anche in comune di Pordenone le sanzioni, elemento ovviamente scomodo, possono essere pagate con il telefonino. Questo perché è importante? Perché grazie all'utilizzo della tecnologia, pur essendo qualcosa ovviamente di non simpatico, si potrà consentire alla cittadinanza di pagarle immediatamente con il telefonino e poter avere anche lo sconto del 30%. I agenti della polizia locale, dotati di tablet e stampante portatile, possono registrare immediatamente la violazione ed emettere l'avviso di pagamento che si presenterà in un formato lungo e stretto simile ad uno scontrino e non più come un bollettino prepagato. Invitiamo tutti ovviamente a rispettare il codice della strada e non prendere sanzioni, ma nel caso in cui questo dovesse accadere, con la tecnologia a disposizione, si può pagare immediatamente, facilmente, senza doversi recare presso uffici postali, banche, ovvero la scomodità di dover riprendere in mano la pratica, pagarle immediatamente e avere anche lo sconto del 30%. Chi invece preferisce soluzioni più tradizionali, potrà comunque pagare gli avvisi Pago.pia tramite home banking, in banca, negli uffici postali e in tutti gli esercenti convenzionati sul territorio. Ulteriori dettagli sono disponibili nel sito del Comune di Pordenone.